Prima Zecco, ora vecino, tradito dagli ex amici. Dai nemici mi guardi Dio che dagli amici mi guardo io Luciano Spalletti ha incrociato per l'appunto il fuoco amico sul cammino per lo scudetto visto che ieri Matias Vecino ha costretto Napoli al primo K.O. stagionale al Maradona dopo che Edin Zecco era stato il carnefice degli azzurri a San Siro alla ripresa delle ostilità, unica altra sconfitta della formazione partenopea. Spalletti lo ha detto chiaramente, non posso dire di sentirmi tradito da vecino. Nel calcio bisogna logicamente dare il massimo per la squadra di appartenenza e lui è uno di quelli che lo fa sempre. Il suo meglio l'uruguaiano lo ha dato ai tempi dell'Inter, con Spalletti allenatore. Quando guarda caso contro la Lazio ha anche regalato la Champions alla formazione nerazzurra grazie alla specialità della casa. Vale a dire il colpo di testa, nel match decisivo dell'Olimpico. Dunque, Luciano ne sapeva bene di cosa era capace vicino. Ma non si sarebbe certamente aspettato un gol da fuori come quello di ieri sera visto che Matias è più dedito agli inserimenti in area che a certe prudezze balistiche. Inoltre, proprio la mossa di Sarri di schierarlo davanti alla difesa ha garantito alla Lazio adeguata protezione nella zona di campo che il Napoli a detta di Spalletti avrebbe dovuto battere, abbiamo sbagliato molto tecnicamente e spiegato ma soprattutto non siamo riusciti ad andare per via centrale anche quando sarebbe stato possibile farlo. Merito, come detto, anche della presenza di vecino che si è fatto sentire esattamente come fece Zecco a San Siro perché la presenza dell'ex romanista si è rivelata decisiva in occasione della sfida post-natalizia che sembrava aver avvicinato la squadra di Inzaghi a quella di Spalletti. Alla lunga non è stato così ma Spalletti ha fatto un certo effetto rivedere di cos'è capace ed in Zecco. Centravanti che per anni ha fatto le fortune proprio di Lucianone. Anzi, con Spalletti in panchina il bosniaco ha segnato 44 reti in 69 partite, una enormità. La miglior media realizzativa di sempre, meglio anche di quanto Zecco ha fatto con Magath allenatore. 45 gol in 75 partite. Dunque, i centravanti con Spalletti si esaltano, e Osimene sa qualcosa. Ecco perché il Napoli ripartirà proprio dalle prodezze del nigeriano. Che anche ieri sera ha rischiato di pareggiare, dopo però che il fuoco amico aveva nuovamente colpito Spalletti.